L'artigianato salernitano riesce a resistere alla crisi nonostante la pandemia, positivo il bilancio di chiusura del 2021. Nel saldo tra imprese nate e quelle cessate, il registro delle imprese della Camera di Commercio registra un incremento di 139 attività rispetto all'anno precedente. Sono diminuite inoltre le cancellazioni di impresa, cresciuto anche il numero delle attività artigiane che si è associato alla CNA, che sta supportando la categoria in un momento però critico a causa dei rincari. Il 2021 è andato abbastanza bene, ma rischiamo di vanificare tutto il lavoro fatto nel 2021 proprio in virtù del fatto di questo aumento dell'energia e del gas. È già uno studio effettuato dalla CNA nazionale su un campione di 2500 imprese e il 30-40% delle imprese rischia di non aprire neanche la serocinisca. Lotteremo per una defiscalizzazione più equa, per una burocrazia più sostenibile e quello che interessa moltissimo a noi è quello di avere un'equità, un'equità tra l'industria e la microimpresa. Ci saranno degli interventi a sostegno? Finalmente anche l'artigiano può accedere all'assegno unico e la CNA di Salerno, così come tutte le CNA territoriali d'Italia, attraverso il suo patronato e base Itaco è a disposizione con i suoi sportelli. Grazie. Grazie. Grazie.